Buongiorno a tutti e bentrovati per la nostra diretta in diretta per chi ci ascolta indifferita. Oggi parliamo di educazione civile, non di diventare dei civili in confronto agli incivili che riempono le strade, non se ne può più, basta, bisogna smettere con questa gente. No, non mi sto riferendo a questo, invece mi sto riferendo a una nuova conferenza del nostro progetto culturale Un Altro Mondo. Questa volta, il 21 ottobre, ci ritroveremo a parlare insieme al professor Giuseppe Polistena di quella che è appunto l'educazione civile. Cioè è piaciuto chiamarla così, è piaciuto chiamarla così a lui, anziché semplicemente educazione civica. Ma in realtà ci addentreremo un po' di più in quelle pieghe che rendono il cittadino un elemento attivo nella vita politica un attimo prima di diventare lettore. Per rendervi il concetto più chiaro, non uso parole mie questa volta, ma vi leggo banalmente il comunicato stampa che facciamo girare in queste ore, in questi prossimi giorni, per illustrare il progetto, credo avrete sentito, la partecipazione anche di Gatto Giù che dice la sua. Il tema della conferenza, perciò, abbiamo voluto mettere il focus sulla politicità. È un termine proprio che esploreremo anche all'interno di questa conferenza. Si concentrerà sul tema della politicità attraverso un'analisi approfondita. L'Istena porterà i presenti all'interno delle sue ricerche per riscoprire come funziona la nostra democrazia e quali sono gli spazi di movimento per il cittadino prima di diventare soltanto elettore. Nel cos'è la serata il pubblico dovrà implorare la complessità della politica, spesso confusa con altri concetti, e di capire la difficoltà di definirne un'identità precisa. La conferenza proporrà nuove categorie concettuali per una migliore comprensione della vita civica e l'identificazione dei sistemi sociali e politici attuali. Ora, il professor Polistena è una persona, direi, di un certo spessore, oltre ad essere l'ex preside del liceo Manzoni di Milano, è anche, appunto, un ricercatore di filosofia politica. Perciò io vi invito assolutamente a partecipare a questa conferenza, mi dirò di più. Vi invito anche, eventualmente vi piacessero questi temi, a contattarci per diventare un po' dei nostri piccoli comunicatori, qualcuno che ha voglia di spargere un po' il verbo, di approfondire meglio questo progetto che stiamo proponendo per comprenderne un po' la portata che ha nella nostra mente e aiutarci. Perciò, se vi piacciono queste dinamiche di contributo civico, ma non politico, alla società, noi vi invitiamo apertamente a scriverci, oltre che partecipare alla conferenza, a scriverci per conoscerci e capire un pochino meglio. Perché, vedete, lo scopo di questo progetto, beh, naturalmente è realizzare il progetto con le conferenze che abbiamo in mente, i nomi che porteremo e tutti i contributi di pensiero, filosofici e non solo, che riusciremo a darvi. Ma in più c'è anche l'idea di, insomma, noi siamo piccolini, siamo una piccola realtà, perciò di poterci collegare ad altre piccole realtà da un lato, quindi altre associazioni che stanno proponendo magari delle idee simili, piuttosto che anche collegarci a quelle persone singole, che in questo momento non hanno ancora una casa di riferimento, ma che intuiscono che queste tematiche possano essere importanti in questo momento storico. Perciò, se avete voglia di trovare uno spazio dove confrontarci, scriveteci, perché il progetto prevede anche degli spazi di confronto e, insomma, spero di vedervi numerosi. Non ho ancora detto quando è, lo ripeto, allora, eventualmente invece l'avessi già detto, sabato 21 ottobre alle ore 17, stiamo ancora cercando di stabilire la sede esatta quale sia, ma probabilmente non saremo all'interno dell'associazione, saremo in prossimità dell'associazione, oppure, a mio piacendo, se il municipio ci elargirà una sala, saremo all'interno di una sala municipale, ma comunque sempre del municipio 6. Sì, per qualcuno magari che abita proprio attaccato all'associazione, questo significherebbe fare qualche metro in più, però noi speriamo che questa sala, se la troviamo, sia bella e accogliente, quindi sarebbe decisamente un passo in avanti. In ogni caso, dicevo, sabato 21 ottobre ore 17, vi aspetto numerosi, come al solito sotto a questo video metto tutti i link di approfondimento. Vi ringrazio per l'ascolto e ci vediamo la prossima volta. Ciao a tutti! Miau! Ciao a tutti!